we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi ci siamo oramai manca una manciata di ore all'evento questa sera alle 8 vedremo insieme ovviamente in live su twitch quello che accadrà in questo evento tanto atteso della season 2 di questo capitolo 2 e mercoledì ovviamente il cambio di season finalmente nel video di oggi parleremo di alcuni accorgimenti vedremo dei dettagli che forse alcuni si sono dimenticati e faremo finalmente il punto della situazione mentre attendiamo appunto ciò che ci aspetta prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali anche al secondo canale e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video news e allora andiamo direttamente al primo argomento di oggi e non poteva che essere la skin uscita ieri come anticipavamo già qualche giorno fa era ovvio che uscisse poco prima dell'evento la skin cyclone ciclone chiamatela un po come vi pare che molti dicono essere in realtà mida con l'armatura questa skin è molto importante innanzitutto come vedete al posto della testa a quella che sembra insomma essere un mini doomsday device ma in realtà molti pensano che questa è proprio l'armatura che utilizzerà mida per controllare la tempesta e quindi scatenare il doomsday device con l'obiettivo ovviamente di impadronirsi degli status ambientali della tempesta di fortnite e quindi distruggere la mappa e prendere il predominio questa skin è davvero molto carina l'ultima skill leggendaria appunto uscita quella prima era oro quindi parliamo ancora del tocco di mida parliamo addirittura della season precedente tanta tanta roba e non è finita perché andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi il nostro donato mi fa le mosse il donato quando il donato mi fa le mosse io devo farvelo sapere ieri ci ha fregato tutti ha messo il nuovo banner della sua pagina personale di twitter e oggi invece mi va a modificare la location inserendo the device quindi il dispositivo il dispositivo è anche il nome della ltm che oggi sarà disponibile vi ricordo ragazzi attenzione non arrivate alle 8 di stasera per vedere l'evento perché c'è il rischio che non verrete matchati qualora voleste vederlo per i fatti vostri e nel vostro appunto battle royale viene consigliato l'accesso almeno 20 minuti prima 15 20 minuti prima in modo da avere garantita la partita l'autobus parte probabilmente la tempesta si chiude all'agenzia e poi verrà disabilitato anche il il discorso delle armi quindi dovrebbe essere appunto come il concerto di travis non ci si può chillare e tutti ci godremo l'evento e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché anche il tweet di fortnite molto interessante i raggi della macchina della tempesta di mida distruggeranno le tempeste la tempesta twitter direttamente fortnite il dispositivo è stato programmato per l'attivazione il 15 giugno per loro sono le due del pomeriggio per noi sono le otto di sera gli spazi sono limitati e quindi come vi ho appena detto cerca di arrivare almeno con 30 minuti di anticipo lo ripetono anche loro quindi ragazzi fate uno sforzo e cercate altrimenti passate da me ovviamente in live che lo vedremo insieme e vedremo un attimino che cavolo succede por caccia miseria e andiamo avanti perché anche questa immagine è molto interessante si tratta ovviamente di una roba già vista un paio di patch fa per chi se lo fosse dimenticato questa è l'immagine appunto come vedete di mida che tocca l'armatura che poi appunto andrà a formare la skin cyclone e alle sue alla sua destra c'è il doomsday device quindi il dispositivo alla sua massima energia ma non solo perché in questa skin c'è nascosto un piccolo easter egg che potrebbe essere un punto fondamentale della stagione numero 3 la vedete proprio qua alla mia destra il riflesso su quel vetro forse non lo vedete ve lo ingrandisco un pochettino e guardate si intravede chiaramente un volto di donna che insieme a mida guarda appunto l'armatura questa donna chi è bella domanda l'unica cosa che abbiamo di concreto è la skin engineer che è una skin che in realtà non è mai uscita e che è lo stesso ritratto della donna presente sulla scrivania di mida effettivamente ci assomiglia molto questo riflesso sono sicuro che non è stato messo lì a caso come sempre epic games non fa mai le cose tanto per farle ma da indizi che poi spetta a noi cercare di capire di associare e di tirare fuori quello che potrebbe accadere il che mi fa pensare appunto che potrebbe esserci magari magari sarà proprio questa donna che fermerà mida dal fare quello che deve fare o magari sarà invece l'agente del caos qualche giorno fa abbiamo fatto un video molto interessante che diceva che noi in realtà conosciamo il boss delle ombre che è appunto mida perché appunto il logo è il suo mentre non conosciamo il boss degli spettri che potrebbe essere l'agente del caso quindi un capovolgimento della sua posizione visto che tutti l'abbiamo sempre visto come personaggio antagonista potrebbe invece essere proprio lui che difenderà non lo sappiamo ragazzi non ci resta che vederlo e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché è un'altra notizia davvero rassicurante arriva proprio nel pomeriggio di ieri domenica si sa che epic games ha finito anche la patch 13.20 una figata questo vuol dire appunto che sono molto avanti con la stagione 3 la 13 ovviamente se dovessimo guardare i file di gioco avremo la 13.00 mercoledì probabilmente il martedì dopo la 13.10 e non si sa quando la 13.20 quindi sono già messi bene sono già avanti si prospetta davvero un lavoro fatto con i fiocchi una buona season e io incrocio le dita e sono molto molto fiducioso e arriviamo all'ultimo argomento di oggi che è altrettanto interessante ed è un'immagine ufficiale come sapete ragazzi il settore cinese di fortnite non è gestito dalla parte europea o americana ne parlavamo già un paio d'anni fa quando tencent acquistò i diritti di epic games per appunto portarli lì dalle loro parti e in poche parole loro fanno un po quello che vogliono quindi rilasciano teaser senza che gli europei lo sappiano blindano cose hanno tutto un loro meccanismo ma questa immagine è davvero interessante perché arriva proprio dal loro sito ufficiale e come vedete piove la pioggia potrebbe essere una delle cose di cui si parla parecchio in queste ultime settimane ovvero sia che nella che dalla stagione 3 potrebbero esserci dei cambiamenti atmosferici durante le partite quindi temporali pioggia chissà che cosa neve già ce l'abbiamo ma non l'abbiamo mai vista in realtà cadere e sarebbe davvero tanta roba anche perché credo che il caos engine possa tranquillamente supportare una roba del genere bisogna vedere ovviamente se la maggior parte di console ce la faranno insomma ragazzi oggi tante news ma l'evento di questa sera sarà la news più importante quindi vi invito a seguirlo insieme a me sul canale mio di twitch ovviamente vi ringrazio per aver guardato questo video noi siamo già in live sempre di là ciao e lo sappiamo tutti quanti tutti quanti tutti quanti se sono nove i minuti non va bene bisogna allungare ma la schermata nera non è tanto bella e quindi ci parlo sotto mancano 30 secondi per la realizzazione youtube non ti dà la realizzazione se vuoi fare i video su youtube pensa di farli lunghi pensa di farli bene non mettere le schermate nere e arriva almeno a dieci minuti e tre perché se lo fai di dieci minuti e due non va bene se lo fai di dieci minuti e tre è veramente veramente perfetto quindi manca veramente una manciata di secondi le notizie sono finite pro